Dissidia Final Fantasy in T è ambientato in un universo pieno di guerrieri, leggende, demoni e furfanti. Nella scelta del tuo team, tieni in considerazione che ci sono quattro tipi di personaggi. Gli assaltatori sono lenti e masticci, ma i loro attacchi sono potenti. I velocisti eseguono attacchi fulmini da vicino. I tiratori usano la magia per attacchi a lungo raggio. E gli specialisti hanno abilità uniche e variegate, che possono essere usate strategicamente. Ogni combattente sarà più efficace contro alcuni nemici e meno contro altri. Quindi mischi i tuoi team in modo da massimizzare le tue opportunità di sopraffare i nemici. Gli assaltatori sono più forti dei velocisti. I velocisti sono più forti dei tiratori. I tiratori sono più forti degli assaltatori. Ricorda, una selezione accurata e strategica del personaggio può massimizzare le opportunità di vittoria. Strategie, tattiche e decisioni dell'ultimo secondo. Dissidia Final Fantasy in T. Una nuova battaglia è iniziata.